Buonasera a tutti, grazie, è la mia prima esperienza a ESC, sono molto contento. Mi chiamo Mattia Epifani, mi occupo di Digital Forensics, non sono, come ho detto nel lab di prima, non sono uno sbirro, sono un appassionato nerd di informatica. Non mi sento neanche troppo, devo abbassare, non io lui. Nonostante questo sono molto felice di essere qua. Mi hanno chiesto un talk che potesse essere di interesse e ho scelto un tema che ho sviluppato abbastanza negli ultimi anni, cercando di invertire la mia testa, cioè io di solito cerco di entrare negli iPhone per tirare fuori i dati e quindi ho provato a invertire il ragionamento e provare a darvi una serie di idee e di linee guida su come impedire a me, a Rebus e alle altre persone che si occupano di questo settore di entrare all'interno di un iPhone. Ho scelto iPhone perché è la piattaforma che conosco meglio e quindi penso che possa essere un topic interessante. Se qualcuno ha seguito oggi il nostro lab, è un po' di gente c'è. Ok, faccio tabula rasa, quindi ripartiamo come se per quelli che non hanno seguito il lab. Sono visibilmente ubriaco, vorrei anche rispetto alle 5 di oggi e quindi questo... Sto accendendo il cervello, ma ci arriviamo. No, stavo dicendo che sono visibilmente ubriaco, quindi... No, si vede appena. Eh, lo so, questo è il problema. Tranquillo. Dunque, la prima istruzione, la prima regola è che se avete un iPhone 4 o un telefono antecedente all'iPhone 4 potete pure buttarlo nella spazzatura o usarlo per fare cose che non sono la vostra vita. Abbiamo una Tesla coil a cui piace molto gli iPhone, li attira come una calamita. Bene, bene. Perché lo dovete cambiare subito? Perché ci sono due problemi. Il primo è una vulnerabilità sul processo di boot, non patchabile, a meno di richiamare tutti i dispositivi in casa, da parte di Apple, scelta che sarebbe un po' onerosa, questo permette sostanzialmente di fare boot con un sistema operativo alternativo, diciamo così, e questo sistema operativo alternativo può fare brute force sul passcode senza invocare i limiti imposti dal sistema operativo iOS. In più, l'ultima versione supportata è iOS 7.1.2, cioè l'ultima versione di iOS 7. Qual è il problema di iOS 7? Che Apple ha un po' mentito quando ha migrato da iOS 7 garantendo la cifratura di tutti i dati, questo non è vero, nel senso che la maggior parte delle informazioni su iOS 7 non sono cifrate sulla base del vostro passcode, ma sono cifrate unicamente dai meccanismi interni del sistema operativo che a ogni reset genera delle nuove chiavi e cifra ogni singolo file con una chiave distinta, adesso non voglio entrare in questo dettaglio tecnico, ma il problema fondamentale è che se io ho accesso alla macchina, cioè se io riesco a interrompere il processo di boot e caricare un sistema operativo alternativo, dato che i dati non sono cifrati in funzione del vostro passcode, mi basta chiedere attraverso questo sistema operativo le chiavi e decifro il dato, non in modo dipendente dal passcode. Quindi i contatti, gli sms, le foto, i video, non sono in alcun modo cifrati. Potete mettere un codice da 80 cifre, tiriamo fuori i dati senza necessità di conoscere il vostro codice. Restano cifrate le applicazioni di terze parti, quindi se avete un iPhone 4 con Whatsapp installato, il database di Whatsapp è cifrato in maniera che dipende anche dal vostro passcode. Detto questo, se avete un passcode troppo semplice, i tempi di cracking sono comunque rapidi, nel senso che un codice a 4 cifre, lo abbiamo fatto vedere oggi, lo abbiamo violato in media in 20 minuti, forse oggi ci abbiamo messo un po' di più, ma se non sono 20 sono 30, un codice a 6 cifre si cracca in 35 ore, un codice a 7 si cracca in 2 settimane. E' chiaro che aumentando le combinazioni aumenta il tempo necessario. Quindi iPhone 4 prendere e buttare via. Se avete un iPhone 4s 5 o 5c, forse sta arrivando il tempo di buttarlo via. Nel senso che per tutti i dispositivi con processore a 32 bit, cioè fino all'iPhone 5c incluso, sia Cellbrite, o meglio, soprattutto Cellbrite, società israeliana che è stata anche nominata quando c'è stata la questione Apple FBI dello sblocco del telefono di San Bernardino, Cellbrite ha una soluzione proprietaria non diffusa e non acquistabile attraverso un software, ma solo attraverso un servizio, disblocco dei dispositivi a 32 bit fino, questa slide arriva a iOS 9.3.2, online è 9.3.4, non c'è ancora la 9.3.5, ma credo che non sono i minor updates di Apple che possono cambiare questa cosa. Sostanzialmente, dato che l'iPhone 4s non sarà aggiornabile ad iOS 10, per scelta di Apple, un iPhone 4s ricadrà nello stesso problema dell'iPhone 4. L'unica differenza è che un iPhone 4 lo riusciamo a violare senza necessità di chiedere supporto a Cellbrite, per ora, per il 4s, dobbiamo usufruire di questo servizio. Ci sono anche però apparecchi di questo tipo, che fino ad iOS 8 permettono di fare il brute force del passcode passando il codice attraverso la porta USB. Cioè, sostanzialmente, noi andiamo a inserire il codice tramite il touchscreen perché il touchscreen abilita, fa partire, mettiamola così, i sistemi di protezione che Apple ha inserito per evitare un attacco brute force e quindi, nello specifico, dopo 5 tentativi, vi compare la schermata all'iPhone disabilitato a attendere 5 minuti. Dopo 5 minuti potete rinserire altri 5 codici e così via. Questo funzionava, questa cosa funziona da iOS 7 in avanti, era un sistema di protezione che Apple ha inserito, ma l'ha inserito solo se l'inserimento avviene tramite touchscreen. La porta USB dell'iPhone è in grado di ricevere codici, cioè, posso passare il codice via USB e non inserendolo tramite il touchscreen. Adesso io ho portato, questo è il telefono che abbiamo usato oggi, quello in cui abbiamo fatto la prova del codice, ho cambiato il codice perché il codice che era stato scelto era 8492 e ci avremmo messo un po' troppo tempo, io ho impostato il codice a 0015, 0015. Questa scatoletta, sostanzialmente, cosa fa? Io attacco lei alla porta USB, la faccio accendere e comincio a passargli i codici, 0000, 00001, 00002, oppure posso decidere di riprogrammarla facendogli applicare i codici nella sequenza che preferisco io. Quando trovo il codice... Sì. Ok. Sono visibilmente ubriaco, mi chiede. Bene. State tranquilli, ho in pugno la situazione. Comincia a passare i codici al dispositivo andando o in modo sequenziale o secondo la regola che gli stabiliamo noi attraverso un software, ovviamente, col quale ci si interfaccia questo oggettino. Quello che succede è che se io provassi a farlo dal touchscreen, dopo i primi 5 codici sono bloccato. Lui può andare avanti, cioè lui va avanti. Grazie. Comincia a passare il codice 6, il codice 7, il codice 8, fino a che non arriva al 15. Quando arriva al 15 il telefono si sblocca. Anche se sullo schermo io vedo stato disabilitato. Ok? Quindi, la protezione della disabilitazione è sostanzialmente una sorta di... chiamiamolo screensaver, o poco più di uno screensaver. C'è un però in più, che è questo è un oggetto che non è in grado di ricevere una risposta indietro dal telefono che gli dice guarda che sono stato sbloccato. Cioè, non è in grado di fermarsi. Ok? Lui va avanti. Non ha un input, non riesce a capire quando il codice è giusto. Allora, non l'ho portato perché è troppo menoso montarlo, su questa porta si attacca sostanzialmente un sensore di luminosità, in modo tale che quando il telefono si sblocca, cambia la luminosità sullo schermo, il sensore di luminosità si accorge della variazione di luminosità e avvisa la scatoletta che il telefono è stato sbloccato. La scatoletta riceve questo input, si ferma e comincia a lampeggiare il codice e a emettere un suono. Ok? Questo non lo vedrete ora, nel senso che non ho portato il sensore. Quindi io la faccio partire, come sempre non funzionerà, perché ha funzionato oggi, e ora, ok, lei si accende, c'è scritto good, quindi va bene, cioè apparentemente è meglio che bad, e schiaccio, scan, lui parte da zero, all'inizio vedete l'inserimento dei codici sulla tastierina numerico, al quinto tentativo il telefono dovrebbe andare in stato di disabilitazione, quindi sostanzialmente dovrebbe comparire una schermata nera con scritto iPhone disabilitato. Prossimo. Ok? Vedete? Non so se vedete, ma c'è scritto iPhone disabilitato. Lui sta andando avanti. Ok? Il codice è 0015. A 0015 il telefono si sblocca, nonostante ci sia scritto iPhone disabilitato. Ok? È molto bello, purtroppo funziona solo fino ad iOS 7 e con qualche trucchetto anche con iOS 8. Ora arriviamo alla fine e parliamo di come Apple ha sistemato questo problema. Perché se ne è presa cura, diciamo così, ha detto, ah, ma non funziona, cioè, è una brutta vulnerabilità, decisamente, forse è meglio che ci pensiamo. E forse ci hanno pensato non benissimo la prima volta che ci hanno pensato. Perché? Eh, vedete? Questo è il bello dei test in diretta che non sta andando. O non ha preso il codice o non è 0015. Sì, oggi ha funzionato, chi c'era oggi l'ha visto. Fino ad iOS 7 funziona, tendenzialmente. Che cosa è cambiato in iOS 8? Apple ha detto, ok, è utile conservare la possibilità di passare dei codici tramite USB non so perché. Eh, quindi non blocchiamo questa possibilità ma facciamo, consentiamo un massimo di 5 tentativi via USB. Poi non ascettiamo più codici. Però questo contatore non viene memorizzato da nessuna parte. Quindi, spengo e riaccendo il telefono e posso continuare. Per cui, sempre il creatore di questo oggettino hanno aggiunto un pezzetto che si va, che deve essere collegato al telefono direttamente sulla batteria. Cioè, aprendo il telefono e attaccandosi sulla batteria che è quello che sostanzialmente vedete in questa piccola in questa piccola immagine. Attaccandosi sulla batteria questo pezzo in più gestisce lo spegnimento del telefono dopo 4 tentativi. Cioè, fa 4 tentativi, spegne il telefono, attende che il telefono riparta e poi dice a lui di andare avanti. È molto lunga e ha un grosso rischio che a furia di mandare spegni, 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 spegni ogni 4 tentativi il telefono muore lì. Sellbright riesce a fare questa cosa senza necessità di aprire il telefono ma usando un oggetto che è simile a questo ma che funziona con iOS 8 e iOS 9 le cui proprietà tra virgolette al momento non sono ancora note. Questa cosa qua la sanno fare solo loro ed è per quello che non l'hanno integrata in nessun software al momento ma la vendono come servizio. Aggiornate sempre banale aggiornate sempre l'ultima versione di iOS settimana scorsa se qualcuno di voi ha letto Pegasus primo vero e devastante malware per iOS venduto a costi da quello che ho letto molto elevati 25.000 dollari a target da quello che ho letto ovviamente sfrutta una vulnerabilità di webkit di Safari e attraverso questa fa un jailbreaking del telefono totalmente trasparente all'utente in più inietta delle librerie che vanno a fare diciamo vanno a fare hooking sulle varie applicazioni cioè monitorano Viber Whatsapp eccetera eccetera e sparano tutti i dati al di fuori funziona su Viber su Whatsapp su Telegram su gli sms sulle foto su quanto tutto quello che c'è su un telefono se avete voglia scaricatevi il technical report sono una 24 pagine ma è molto carino è spiegato molto bene Lookout che è la diciamo chi ha fatto la disclosure insieme a Citizen Lab della vulnerabilità perché dico aggiornati alla versione ultima versione di iOS perché teoricamente cose di questo genere possono anche essere utilizzate a scopi di forensics cioè se c'è una vulnerabilità che ci permette di estrarre dati li estraiamo aggiornate anche perché ci sono tanti bug di lock screen cioè quotidianamente no quotidianamente ma per ogni versione o quasi di di iOS vengono pubblicati dei bug che permettono di bypassare il lock screen alcuni sono fake altri però invece funzionano per esempio uno degli ultimi iOS 931 quello che attraverso Siri e richiamando facendo una ricerca su Twitter clic su un indirizzo mail presente in un qualunque tweet funzionava solo sui dispositivi tipo l'iPhone 6 che hanno il 3D quindi email che viene in 3D add to contact aggiungi foto da aggiungi foto vedi le immagini back vedi tutta la rubrica e così via quindi comunque quando si fa forensics qualunque informazione si riesce a tirar fuori è un'informazione che non avremmo avuto quindi è comunque utile o potenzialmente utile questo sito secondo me è l'unico che nonostante l'url ma in realtà il contenuto è aggiornato che tiene traccia per ogni versione di iOS dei vari bug che vengono fuori ovviamente impostate un codice di accesso il mio consiglio è comunque di usare un codice di accesso che non sia a quattro cifre ovviamente possibilmente che non sia neanche a sei perché come Selbright ha scoperto una tecnica per fare brute force su quei dispositivi non è possibile escludere allo stato attuale che tra sei mesi o un anno ci sia la stessa cosa per un iPhone 6 o un iPhone 6S o quello che uscirà da qui in avanti questo per noi è semplicemente utile perché Apple in qualche modo ci aiuta a capire la complessità della password perché lo screen cambia in funzione della complessità della password ovviamente attenzione anche le impronte digitali che sono comode per l'utilizzo quotidiano del telefono hanno ovviamente il problema che il vostro dito può essere usato per sbloccare il telefono esistono i cosiddetti smuge attack per capire quali sono le zone più pressate o più recentemente pressate per capire possibili codici è più utilizzato di solito sugli swipe di dispositivi Android ma anche su iPhone si può utilizzare in qualche modo due parole in più sulle impronte digitali in iOS 9 la cosa fondamentale è che l'impronta digitale può essere reinserita cioè è valida per 48 ore sostanzialmente dopodiché dovete inserire almeno una volta il passcode manualmente chi usa il telefono si accorgerà che ogni tanto anche se non lo spegnete mai se avete un iPhone anche se non lo spegnete mai ogni tot vi dice è necessario inserire il passcode perché l'impronta digitale è valida per 48 ore e quindi quando un telefono viene preso sequestrato per esempio non si può a priori sapere quanto è passato dall'ultima volta che l'utente ha inserito il codice manualmente o se sono passate siamo prossimi alle 48 ore o no perché è importante la questione dell'impronta digitale perché allo stato attuale quello che per noi è l'unico modo tecnico per bypassare un codice sui telefoni più moderni è quello di andare a cercare su computer ai quali il telefono è stato collegato il certificato di trust il certificato di sincronizzazione perché ogni volta che voi collegate l'iPhone al vostro computer viene generato sul computer un certificato che permette sostanzialmente al computer e al telefono di comunicare senza necessità che il telefono sia sbloccato banalmente quando attaccate il telefono a ricaricare alla porta USB del computer se provate ad andare sulle foto dell'iPhone vedete le foto anche se il telefono in quel momento è stato di blocco questo è il classico messaggio che vi viene fuori cosa succede quando cliccate su trust che un file viene preso e creato sul computer con il quale vi state accoppiando il vostro telefono il problema di questo file qual è uno non è in alcun modo dipendente dalla macchina quindi quel file può essere mosso su un altro computer e quel nuovo computer diventa trusted per l'iPhone secondo questo a livello forense a livello dell'utente i certificati di lockdown non stanno all'interno sia in ambiente windows sia in ambiente mac non stanno all'interno del profilo dell'utente ma stanno in due cartelle di sistema il fatto che stiano in due cartelle di sistema significa che qualunque altro utente di quella macchina può vedere i certificati di lockdown il che significa che se voi lasciate il computer attaccato a scusate l'iPhone attaccato al computer di casa a caricare e qualche altro utente si logga può vedere i dati del vostro iPhone anche se in quel momento l'iPhone ha il codice di blocco perché il certificato di lockdown gli permette di comunicare qual è il problema dell'utilizzabilità dei certificati di lockdown è che fino ad iOS 7 e in parte anche alle prime versioni di iOS 8 potevamo usarlo anche se il telefono era stato spento cioè se la persona alla quale è stato sequestrato oppure passa troppo tempo e quindi il telefono si scarica il certificato con iOS 7 era valido anche dopo lo spegnimento quindi al primo reboot del dispositivo adesso no cioè vale solo sostanzialmente vale significa è utilizzabile solo se il telefono è stato trovato acceso e sono passate meno di passano meno di 48 ore tra il reperire un certificato di lockdown da un computer collegarlo all'iPhone e fare estrarre i dati una volta che ho creato il trust noi con diversi software di analisi acquisizione forense possiamo tirar fuori i dati l'altra cosa importante quindi è autorizzate al trust solo le macchine di cui avete il pieno controllo se qualcuno sta per prendervi il telefono cercate di spegnerlo perché se lo spegnete rendete sostanzialmente il certificato di lockdown completamente inutilizzabile qualcuno che passa c'è gente che passa e ti chiede dammi l'antimo il telefono quindi la seconda ovvia cioè la successiva ovvio suggerimento è cancellate i certificati di lockdown frequentemente questo è in ambiente windows vedete program c program data apple lockdown quindi cartella raggiungibile da tutti gli utenti i certificati di lockdown hanno il nome che dipende che rappresenta l'identificatore del telefono che è un ID hardware univoco che viene embedded dentro il dispositivo al momento della produzione quindi il nome è sufficiente per farvi capire a che dispositivo fa riferimento come dall'altro lato dal telefono noi possiamo estrarre chiedere l'UdID anche se il telefono è bloccato quindi possiamo facilmente capire qual è il certificato di lockdown che matcha con un determinato dispositivo anche se quello è stato spento cioè lo possiamo accendere e chiedere il valore ho saltato una slide no ok backup sicuramente avere backup dei propri dati è utile se volete fare un backup locale ovviamente non fatelo in chiaro perché se lo fate in chiaro tutti i contenuti del vostro telefono vengono storati all'interno del vostro computer ogni file rappresenta un oggetto preso dal vostro iphone può essere un'immagine può essere un video può essere un database SQLite degli sms piuttosto che di whatsapp o di qualunque altra applicazione ovvio quindi che la scelta di farlo cifrato è quella più naturale diciamo così qual è il problema che se scegliete una password troppo debole si può fare si possono fare attacchi qualunque qualunque essi siano c'è un side effect negativo nel fatto di fare un backup cifrato nel momento in cui vi fate un backup in chiaro sul computer state rendendo sostanzialmente disponibili tutti i vostri dati a chiunque passi e si prenda il vostro backup ma il file del keychain cioè il portachiavi di mac se il backup è in chiaro viene cifrato ante backup cioè a livello diciamo l'iphone o l'ipad direttamente si preoccupa di cifrare il keychain prendendo una chiave che sta all'interno di un processore che nei dispositivi un'area che fa varie cose che si chiama secure enclave nei dispositivi a 64 bit comunque quello che succede è che il keychain è cifrato a monte quindi voi avete sul pc un keychain che non è leggibile perché non abbiamo la chiave se invece fate un backup cifrato il keychain viene cifrato con la password che voi avete scelto così come tutti gli altri file questo significa che se io riesco a violare la password e quindi a leggere il backup riesco anche a leggere il contenuto del keychain che cosa c'è dentro il keychain tutte le password dell'applicazione mail tutte le password delle reti wifi i token di autenticazione delle applicazioni il token di facebook il token di dropbox il token di linkedin il token di x di pokemon go forse anche cosa ci faccio con il token lo tiro fuori dal backup cifrato e mi collego ai servizi online senza necessità di conoscere la password perché ho un token che in quel momento è valido devo semplicemente fare finta di essere un iphone ok cioè esistono applicazioni tipo uffed cloud analyzer oxigen cloud detective che usando i token estrati in questo caso dall'iphone ma anche su android o su windows phone usano questi token per scaricare per eventualmente accedere a dati online domani se qualcuno ha voglia proseguiamo la parte di lab oggi abbiamo parlato più di acquisizione domani parleremo di analisi e faremo anche ancora qualcosina su i cloud se proprio volete fare un backup su i cloud impostate una password forte ma tanto non è sufficiente perché apple può fornire i dati che cosa significa apple non dà supporto alle richieste stile fbi cioè sviluppami un sistema operativo che permetta di fare brute force del codice del tuo telefono ma nel momento in cui i dati stanno sui loro server e quindi i dati ce li abbiamo messi più o meno volontariamente noi apple su richiesta ovviamente con tutte le come si può dire le attenzioni del caso da un punto di vista legale fornisce i dati a a chi li richiede anche se non si deve arrivare ad apple in realtà è possibile estrarre i dati da i cloud ma non solo il backup del telefono impostato su i cloud ma anche i file che le applicazioni mettono su i cloud perché questa è una cosa che da ios 8.3 in avanti è diventata una prassi delle applicazioni cioè dato che non c'è la sd e dato che l'utente non fa i backup dell'iphone e dato che ed è successa una mia amica se hai bevuto troppe birre e fai click sbagliato sull'icona dell'applicazione whatsapp e la disinstall e ti sei giocato tutto su un iphone perché ti sei giocato tutto su un iphone perché ogni singolo file è cifrato con una chiave diversa che viene cancellata quando cancellate il file ed è per questo che sostanzialmente recuperare un file cancellato da un iphone un file cancellato da un iphone è un'operazione che non riusciamo a fare quindi quanto ci vuole eliminare l'applicazione whatsapp tre secondi e dentro ci ho ormai magari tutta la vita quindi cosa fanno le applicazioni permettono di fare dei backup autonomi usando però lo spazio è il cloud e quindi per esempio poi ci torniamo indietro whatsapp da qualche versione da un annetto quando si aggiorna e se avete un iphone vi chiede vuoi effettuare il backup delle tue chat con che frequenza vuoi effettuare il backup delle tue chat ogni giorno ogni settimana ogni mese ogni anno mai se a un utente medio viene chiesto vuoi fare il backup delle tue chat dice backup si cosa utile quindi facciamo backup e infatti fanno il backup il backup va a finire su iCloud è possibile secondo voi cifrarlo questo backup in qualche modo? no cioè l'unica forma di sicurezza è la vostra username password dell'accanto iCloud associato a quel telefono e quindi sostanzialmente possiamo andare a scaricare dei backup possiamo andare a scaricare i file delle applicazioni possiamo anche andare a scaricare le foto usate le foto condivise attraverso il sistema di sharing di foto di cui adesso sfugge il nome questa è una funzionalità aggiunta da poco da questo software ed è abbastanza interessante scusate bevo è abbastanza interessante perché hanno scoperto questo sostanzialmente quando io ho lo sharing delle foto attivo se elimino un'immagine da un dispositivo vengono syncati tutti e l'immagine viene cancellata va a finire in un cestino cestino su iCloud dal quale posso entro 30 giorni ritirarle fuori peccato che in realtà dopo 30 giorni le immagini scompaiono dal cestino dell'utente ma non vengono cancellate dal server di Apple come hanno fatto ad accorgersi di sta cosa quando diciamo il sistema di sharing delle foto lato Apple quindi lato server ha un SQLite identico a quello che c'è dentro l'iPhone che gestisce la libreria delle foto dentro il quale ci sono tutti gli ID di tutte le foto che hanno fatto parte dell'album sia quelle che sono presenti sia quelle che sono attualmente nel cestino ma anche gli ID delle immagini che dal cestino dovrebbero essere scomparse perché sono trascorsi 30 giorni da quando lo eliminate come faccio a tirar via un'immagine dal sito faccio una richiesta una get di un qualche file quando io so il nome del file e il nome del file è scritto nel database SQLite e l'immagine sul server non è stata cancellata se io chiedo di prendere quell'immagine il server me la restituisce quindi sostanzialmente allo stato attuale il sistema di sharing delle foto su iCloud non elimina le immagini del momento in cui l'utente chiede di eliminarle e questo non è tanto bello questo è venuto fuori 28 agosto l'aggiornamento è del 30 quindi penso che Apple forse un rimedio cercherà di mettercelo quando ci sono più app che si basano su iCloud addirittura vengono ricostruite in automatico tutte le foto che sono state cancellate io sono quattro volte che cancello tutte le foto che non voglio che vadano in giro questo potrebbe essere sia da Whatsapp e vengono ricostruite nuovamente in automatico quando si risincronizzano tutte le applicazioni questo in ogni caso va valutato ovviamente però sicuramente non sta funzionando al 100% il sistema di sharing mettiamola così qualche problemino ce l'hanno allora però tutto questo prevede che cosa va bene grazie grazie della discrezione tutto questo voi lo potete fare se conoscete lo username e la password dell'utente perché per scaricare i backup dai cloud le foto o i dati di terze parti dovete conoscere lo username e la password dell'utente cosa che potrebbe essere complicata oggi scherzavamo un po' su quanto gli ultimi leak dei vari siti web stanno facendo venire il mal di testa hanno fatto venire il mal di testa tante persone ma spero non qui sulla facilità di recuperare attualmente password la cosa però interessante è che sul pc potrebbe esserci installata l'applicazione di iCloud d'altra parte se io sono un utente che usa iCloud è anche possibile visto che appena installo iTunes lui mi dice devi installare assolutamente l'iCloud control panel l'utente medio perché voi dovete immaginare che noi ci raffrontiamo con l'utente medio molti hanno l'applicazione installata ovviamente cosa succede installo l'applicazione inserisco lo username e la password salvo le credenziali cosa salva l'applicazione sia su Windows sia su Mac salva un token esattamente come i token che sono salvati sull'iPhone per accedere ai social Apple salva sul pc un token che è il token dell'utente per accedere dai cloud e quindi questo software che vi ho fatto vedere prima quando vado in modalità di download anzi non si vede meglio nella slide dopo qua posso scegliere se passare username password o token quindi una stringa e quella stringa l'abbiamo visto oggi nel lab mi permette di accedere tranquillamente all'account come se avessi lo username e la password è difficile estrarre questo token no Elkomsoft con qualunque dei suoi software vi da un eseguibile da 3 mega che se lanciato ha bisogno di diritti di administrator vi tira fuori il token in un secondo c'è anche un progetto open source su github che si chiama inflatable donkey che sta seguendo l'evoluzione di queste tecniche per estrarre i token per accedere ai backup online ovviamente se volete fare antiforensics non fate jailbreaking lo so che può essere brutto magari da dire qua ma se proprio quantomeno dovete farlo cambiate la password di root che è alpine su tutti i dispositivi apple dall'iphone 3 all'iphone 6s o quello che è l'ultimo attuale perché perché se un dispositivo è jailbroken posso sostanzialmente e conosco la password di root posso sostanzialmente caricare sul device un'applicazione anche a telefono a dispositivo bloccato perché mi collego direttamente via ssh carico un'applicazione che mando in esecuzione e che mi fa il brute force del passcode senza attivare i meccanismi di decremento di apple ok ultimi ultime due slide ci sono delle informazioni side che apple spara sui vostri computer senza che neanche ve ne accorgiate solo nel momento in cui ovviamente se avete itunes installato e se usate itunes per gestire l'iphone tutti i file di log non tutti i file di log di tutto quello che ha fatto il telefono ma i crash log quindi sostanzialmente i problemi delle applicazioni che in realtà non sono sempre e solamente dei veri e propri crash a volte sono dei warning vanno a finire sul vostro pc all'interno della cartella del profilo dell'utente perché questa è un'informazione perché per esempio l'applicazione mail scrive qui dentro i nomi di tutti gli allegati che voi avete scaricato dal telefono l'applicazione wifi scrive nome e mac address di tutte le reti wifi alle quali vi collegate e quindi comunque con data e ore quindi questo comunque permette per esempio di localizzare un telefono in un determinato posto in una determinata data e ora l'ultima slide ovviamente non poteva che essere questa questi sono i miei contatti e se volete trovate non è una proposta commerciale andatevelo a scaricare andate su su Wikileaks nel hack di Hacking Team lo trovate perché Hacking Team se l'era comprato quindi sono abbastanza contento lo trovate all'interno della mail che hanno ricevuto da Packet Pub con il PDF allegato esatto no 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 c'è anche tutto lo scambio di mail mi puoi comprare questo libro mi sembra interessante basta grazie grazie